Buongiorno a tutti dalla Sirena. Mi passavo buono il 25 aprile? Io mi passavo buono. Sì, mi passavo buono. Ho fatto il cannellone, come vi ho detto. Ho fatto il cannellone con le fragole. Non lo mangiamo più. Era bello, venne bello. Oggi no, oggi verdura e una frittata di cipolla che mi dava a cipolla, e mi unciaro l'occhio che stai morendo. L'occhio unciata io. Tanto che bruciava che a cipolla è una cosa pericolosa. Ma speriamo che questo virus sia in pace. Cioè, non ci siamo tutti fuori. Come dicono, come dicono, io non lo so. Se è vero, se non è vero, questo non lo sa. Ma io dico che se tutto va bene avremo un cipolla. Allora, il 13 maggio, 13 maggio, o 13, 18. Verso il 20 maggio, non escemo questo virus. Speriamo, Signore. Speriamo a Madonna. E pregiamo sempre. Mi raccomando, pregate sempre. Pregate sempre. Pregate sempre. Perché non ci vogliono preghiere. Usiamo le facce. Perché stiamo arrivando in un altro mondo. Non siamo un altro mondo di prima. Ma siamo in un altro mondo. Non ci vogliamo tutti bene. E non abbiamo cattiveria. Non che c'è il virus. Ah, siamo tutti bravi. Quella... No. Quando finisce il virus, non ci vogliamo più bene di prima. Non c'è niente. Non si parla da gente. Ma se qualcuno avete bisogno, poi vorremmo aiutare. Puro se hai bisogno io, mi aiutate pure a me. Io potrei aiutare pure anche un altro. E così. Così è bello. Ma... Speriamo. Speriamo. Io volevo oggi che la marina faccia il bagno, ma purtroppo il tempo si costò. Ma vediamo se posso calare oggi. Per di usare la gente. le pinne. Mi faccio una bella tuffa. Paolo, ciao! Forse pure tu vai a mare, no Paolo? Ciao Paolo, ciao ciao. Ma non credo che... Non andiate a mare, no. Io vi saluto a tutti. Vado a cucinare.